Abbiamo accennato alle problematiche che appunto derivano da difficoltà di sonno, dalle apnea eccetera volendo specificare quali sono le conseguenze, perché ho parlato può essere un infarto, un intus, qualcosa abbiamo accennato quali sono quelle che spesso magari avvengono e diciamo purtroppo è stato un infarto, sì ma da cosa è dovuto e ci sono fattori predisponenti che magari possono arrivare proprio con difficoltà durante il sonno. Ci sono due gruppi di sintomi o effetti, cerchiamo di raggrupparli perché poi è facile ricordarli. Ci sono effetti cardiovascolari e ci sono effetti di tipo neurologico. Quindi quelli cardiovascolari partono da due fenomeni che sono molto facili da registrare durante il sonno. Il paziente con apnea ha puntate ipertensive, ma se non ha puntate ipertensive, perché a volte non capita, non ha abbassamento della pressione, perché pochi sanno che tutti noi se ci misurassimo la pressione periodicamente durante la giornata avremo una pressione più alta di giorno e una pressione più bassa di notte. Questo è il comportamento normale. Se noi misuriamo la pressione siamo 100, non abbiamo apnea, noi vedremo che se la nostra pressione media durante il giorno è 130-80, durante la notte è 110-50. Quindi scende. Il soggetto apneico o non scende o aumenta. Quindi si immagina cosa succede se uno è nel pieno delle apne, si fa una puntata 200-250, non se ne accorge nessuno. Si può avere un'emorragia cerebrale, si possono avere tutti gli effetti dell'eteri fino alla morte di una puntata ipertensiva. E questa è una cosa. Se tu fai apnea hai una periodicità di entità variabile ma costante di picchi di iperossigenazione o norma ossigenazione e desaturazione, normo D, normo D. Questo vai e vieni, questo ondulare della pressione di ossigeno ha degli effetti devastanti su tutti i tessuti, ma soprattutto sui tessuti più bisognosi, che sono il mio cardio e il cervello. E qui si cominciano a vedere i disturbi neuropsicologici. L'altra terza grande capitolo dei disturbi cardiocircolatori sono le aritmie notturne. A volte ci sono aritmie notturne che il cardiologo non si spiega, il soggetto va a letto, spesso viene semplificato come ho sognato qualcosa di terrifico per cui ho avuto l'incremento di frequenza cardiaca. Non è sempre così. Quindi questi fenomeni notturni, ipertensivi e del ritmo, possono arrivare all'assistolia, morte nel sonno. L'apneico tipicamente muore nel sonno. Io ho avuto famiglie di apneici che quando sono venuti, due fratelli, il papà e il nonno, erano morti tutti e due nel sonno. I due fratelli si sono tutelati facendosi trattare. Ma è sconcertante. Nonno, padre e due fratelli con apnea, se non li avessimo intercettati, non li avessimo trattati, avrebbero fatto la fine del nonno e del babbo, perché sarebbero morti nel sonno. Poi c'è tutto l'aspetto neuropsicologico. Che cosa vuol dire fare un'apnea? O meglio, come si interrompe l'apnea? Perché l'apnea si interrompe con questo rumore fragoroso di ispirazione. Di fatto si interrompe perché il paziente inconsapevolmente si sveglia. Cioè è questo risveglio subconscio che interrompe il blocco respiratorio. Ma se tu ti svegli in un'ora di sonno, ogni volta che fai un'apnea e hai 40 apnei per ora di sonno, che è già un'apnea inizialmente severa, tu domani mattina, come potrai ragionare se hai dormito 4 ore e ti sei svegliato 40 volte per ora? Cioè ti sei svegliato 160 volte nel tuo sonno? Prova a pensare che venga qualcuno che ti sveglia 160 volte in 4 ore. Certo.